La Mazzetta E' morto, Don Miguel Morto? E come morto? Che ne so, qua ci sta pure un signore sul divano Un signore? Si, perché lei non stava su Allora sarà quella carogna, lo voglio vedere morto Già fatto, Don Miguel, se venite qua lo vedete Ugo Tognazzi è il commissario a Senza Secondo lei, tra quella signora nuda e quel signore là, nudo Si C'era qualche cosa di intimo oppure stavano così perché soffrivano in caldo? Vabbè, ma se uno volessero maliziosi, ma lo trova dappertutto E' appunto questo che io vado cercando La Mazzetta Luise, io faccio il commercialista, praticamente sono un avvocato No, tu li fai chiamare, avvocato Si, signore E non sei neanche commercialista, sa, sa Ma mi manca qualche cosa Tutto Sono buoni, non sono cattivi Soltanto che poi mi dovete portare all'ospedale Avvocato, l'uomo è un animale Appangevote e sconderose Quando ha mangiato diventa espansiva Io quelle carte non ce l'ho E non saranno gli strani a far male Luare Allora è segno che non mi sono abbastato Quello è un uomo Se vuole qualche cosa Le morti non gli fanno nessuna impressione Se quello acchiappa mia figlia con le carte in mano Ammazza Quello ammazza E voi che dite che a Nicola Casani gli farebbe impressione Di vedere pure il cadavere mio Ma lei sta passando delle giornate terribili Va al faiito e trova due morti Torna a Napoli e ne trova un altro E strada facendo Assiste anche a un investimento mortale Dopo essere uscito da una casa dove è scoppiata addirittura una bomba Una bomba avvocato E tu ti metti a fare queste domande difficili all'avvocato a prima mattina Senza nemmeno una tazza di caffè Porta un caffè all'avvocato E poi parliamo Un caffè all'avvocato pronto E che hai fatto? Ce l'hai data male? Dagli un po' di zucchero Quanti cucchiati? Almeno due? E no, un momento Ehi, ha fatto effetto un caffè Ma voi mi avete visto bene in faccia E secondo voi questa è la faccia di un eroe Di uno che muore senza parlare No E poi questione di sensibilità E se io tenavo stifo a Tenda e Gart Mi pigliavo tutte queste mazzate Bastava la prima ombrellata E quelle già erano uscite Da un libro di grande successo Il film più atteso del nuovo anno cinematografico La Mazzetta La Mazzetta Nino Manfredi è sassato Ugo Tognazzi è il commissario assenza Nel film La Mazzetta Don Michè, una disgrazia Anzi, una grande disgrazia Vostra moglietina sta nel bagno Ma che state dicendo? Che è morta, Don Michè Morta? E come è morta? E che ne so Qua ci sta pure un signore sul divano Un signore? Si, perché lei non stava sola Allora è stata quella carogna Lo voglio vedere morto Già fatto, Don Michè Se venite qua lo vedete Secondo lei Tra quella signora nuda E quel signore nudo C'era qualche cosa di intimo Oppure stavano così Perché soffrivano il caldo? Vabbè, ma se uno vuole essere malizioso In malo lo trova per tutto E' appunto questo che io vado cercando Sono buoni, non sono cattivi Solo che poi mi dovete portare all'ospedale Avvocato, l'uomo è un animale Appangiavuta e scondrusse Quando ha mangiato diventa spazzino Io quelle carte non ce le ho E non saranno lì? Ho niente a farmele droare Allora è segno che non mi sono abbastato Quello è un uomo Che sa fare qualche cosa La morte non gli fanno nessuna impressione E se quello acchiappa mia figlia Con le carte in mano L'ammazza Quello l'ammazza Ah, e voi che dite Che a Nicola Casale Gli farebbe impressione Di vedere pure il cadavere mio Ma lei sta passando Delle giornate terribili Va al faiito e trova due morti Torna a Napoli e ne trova un altro E strada facendo Assiste anche a un incidente stradale Dopo essere uscito da una casa Dove è scoppiata una bomba Una bomba, Avvocato E attacca Andiamo Grazie a tutti.